Un giorno senza sorriso è un giorno sprecato. Oltre lo stigma, salute mentale e l'impatto delle parole. Questo è il tema scelto per l'evento che si è tenuto all'auditorium Arturo Giovanniti di Campobasso in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'incontro organizzato dall'associazione Liberamente Insieme Ollus, che da anni si occupa di salute mentale, con il patrocinio dell'ASREM, del Comune di Campobasso e del Lions Club, ha voluto attirare l'attenzione sulla profonda solitudine nella quale vive ancora oggi che è affetto da patologie psichiatriche. In particolare si è voluta sottolineare l'importanza del linguaggio e del modo in cui può influenzare la percezione dei disturbi mentali. Oltre al direttivo dell'associazione erano presenti Bruno Carabellese, direttore sanitario dell'ASREM, Angelo Marcheggiani, assessore alle politiche sanitarie del Comune e Franco Addona, direttore del Centro di Salute Mentale di Campobasso. Questa è un'iniziativa molto importante. Il Centro di Salute Mentale di Campobasso ogni anno organizza una manifestazione perché riteniamo che sia importantissimo sensibilizzare l'opinione pubblica su quelli che sono i problemi di salute mentale. Il tema proposto quest'anno è Salute Mentale e l'impatto delle parole. Che impatto hanno queste parole sulla salute? Allora, le parole hanno in salute mentale un impatto prioritario perché le persone quando arrivano da noi dobbiamo essere in grado di trovare con loro un canale di comunicazione e di creare un rapporto empatico perché solo così possiamo prendere in carico le persone e le persone, le famiglie, si possono fidare di noi. Ad aprire i lavori Domenico Fazzioli di Liberamente Insieme che ha ricordato il professor Franco Basaglia per il centenario della sua nascita. Un medico che si è messo contro tutti, contro la politica, contro i propri colleghi, però alla fine è una spuntata chiudendo i manicomi di Gorizia e di Trieste prendendosi delle grandi responsabilità.